Dalla chiesa di Monte Falcone di Valfortore, ecco i montagutesi che stanno uscendo dopo la celebrazione eucaristica, dopo la novena, in preparazione della festa della Madonna del Carmelo del 16 di luglio, ecco un po' di montagutesi che stanno uscendo alla spicciolata, da questa meravigliosa chiesa, da questo santuario, vedete la Madonna del Carmelo lì in fondo, e un po' di gente che prende i santini... Ciao Zeliola! I montagutesi che sono qui, che sono venuti in pellegrinaggio, in pellegrinaggio, ecco, ciao, ciao a tutti! Ma il martaglio, eh? Eh certo, certo, questo subito finirà sopra all'internet, ciao a tutti! Ciao! Un po' di candele! Tutto è un monte falcone! Eh certo, tutto, non ci stanno problemi, guardate che bella chiesa, ecco siamo all'interno della chiesa, in attesa di fare una chiacchiera con Dona Nittale, prego, un saluto! Ciao, ciao, ciao! Ok! Una bella foto, la Madonna che... Assolutamente ci sarà tutto! Ecco ancora montagutesi, guardate, ragazzi, sembra una... Siamo tantissimi, siamo tantissimi, riprendiamo tutti, riprendiamo tutti, fateci un saluto, fateci un saluto! Ammassa cammina, mi sono a me! Solo a te, Zeggiusi! Non a me! Siamo in chiesa, dobbiamo essere tutti fratelli! Buonasera! Attenzione! Buonasera! Buonasera! Sì, un attimo ruffiniamo... Sì! Buonasera che stai lì! Ah! Dove sta? Dove sta? Salutiamola, salutiamola! Buonasera, buonasera! 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 Ciao, buon viaggio! Grazie mille! Venite un'altra volta, venite un'altra volta! Grazie! E lei è... Son Luigina, giusto? Sì! Abbiamo sentita durante il rosario a maggio prossimo sono cento? Sì! Complimentoni, veramente complimentoni! E noi ci tenevamo a un saluto a tutti i montagutesi lontani che guarderanno questo video su internet! Facciamo un saluto a tutti i montagutesi che ci guarderanno! Ok! Vanno tanti, tanti saluti e benvenuti a casa nostra! Grazie mille! Grazie mille da Son Luigina, qui dal santuario della Beata Vergine del Carmelo di Monte Falcone! E stiamo andando via, in effetti stiamo... Ecco, vedete, ancora... Montagutesi che fanno via! E noi, tra un po', con il nostro Giuseppe... Ci siamo già interfacciati! Grazie mille a tutti! E adesso andiamo a fare una chiacchiera con Don Annibale!